Siamo! Dai! la zona i dati me li dai i dati i dati velocemente c'è una circolare in cui si è distorsi dalla patente del capotrero prima voce via ho sentito la comunicazione no, no, la comunicazione è del vale, non c'è problema io normalmente non si è data con la bandiera ma è ammesso nei convoli dopo l'obrecazione che cosa sia permane prensi e navi non si è che è un regolamento però io ringrazio in segdà ha registrato per nell'astra quando vedo con la non si vuote allora bilizia Cioè era da dove, quasi ora la pubblica, ma io mi inviare la sangue, non lo sapevo. Esatto, io non risco a farla spesso, oppure io. Io non, ma ecco. Io non sognuno, dove sono abituato. Io dico che non c'è il problema. Andrò a Milano e lavoravo nell'industria privata, visto la gente che c'era. Riuscire. Poi andavo all'università, sì, la serata. Allora, me la facevo giocazione un giorno, però... Prima era un suo problema. Io devo ascoltare almeno... Un bel giorno. Un bel giorno. Non è che l'audio nostro ti ha fastidio, sì. Parlare sì. No, no, non è che non c'è lavoro. I discorsi nostri magari... ...se vengano registrati. Quello che vengono d'interesse. Numero, scusa. 0410. 0410, sì. 090. Non lo so. 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 Si, scusa. Non ferma. Non ferma. Non c'è. Non si. Ma devo dare più tutte le sapere. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.